Oggi si è celebrata la Commissione Agricoltura che avevamo chiesto in via d'urgenza per fare il punto soprattutto con l'assessore Imprudente su quelle che sono le intenzioni e le azioni che Regione Abruzzo vuole porre in essere per cercare di tutelare un comparto, quello agricolo che con il maltempo che abbiamo subito in questi ultimi due mesi è messo veramente a dura prova ed in particolar modo all'interno della provincia dell'Aquila e all'interno della conca del Fucino. Purtroppo ancora una volta dobbiamo riscontrare come l'assessore si sia limitato a fare il compitino della richiesta dello stato di calamità ma non abbia previsto né un'alternativa parallela allo stato di calamità e la cui competenza è nazionale, né tantomeno un possibile piano B che la Regione deve necessariamente porre in essere per sostenere un comparto che nel particolar modo dell'alveo del Fucino produce il 25% del PIL agricolo, un comparto che è fortemente a rischio soprattutto per i danni che ha già direttamente subito ma anche per quelle che sono le prospettive di mercato e quindi ulteriori danni che si potrebbero andare a sommare ai precedenti. Noi manterremo l'attenzione altissima, ho già avuto modo di ribadire all'assessore che mi aspetto a questo punto un piano dettagliato che Regione Abruzzo intende adottare entro le prossime due settimane perché l'unica azione adottata, quello di aumentare le quote del gasolio agricolo, peraltro in maniera non insufficiente, non si può certo ritenere uno strumento a vantaggio del comparto, il comparto ha bisogno di ben altro. Inoltre abbiamo chiesto all'assessore di prendere immediatamente in mano anche la problematica del comparto assicurativo per quelle che sono le assicurazioni per le culture in relazione agli eventi calamitosi e ai danni che ne possono conseguire. Due aspetti fondamentali, uno prioritario, l'altro programmatico che adesso ci aspettiamo che l'assessore venga immediatamente a chiarire in commissione.